Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofaionline.it. In questa videoguida, vediamo come guardare la nostra casa dall'alto, dal satellite. Per farlo, ci serviamo di Maps, un'applicazione di Google, che ci permette di vedere tramite i suoi satelliti qualsiasi posto sulla Terra. Per iniziare quindi dobbiamo andare su Google Maps. Possiamo raggiungerlo tramite Google, come vediamo nell'immagine, oppure direttamente cliccando il link in sovraimpressione o nella descrizione. Arrivati su Google Maps, è possibile che vedremo la cartina della zona geografica in cui ci troviamo. Per prima cosa, procediamo a cercare la località che vogliamo vedere, andando a scrivere il nome della città, e se vogliamo anche la via, nella barra di ricerca indicata nell'immagine. Noi ad esempio, scriviamo Torino. Se non mettiamo un indirizzo specifico, ci proporrà alcuni indirizzi. Noi selezioniamo solo Torino. In questo modo ci porterà al centro della città. Tu, se vuoi vedere casa tua, scrivi il tuo indirizzo e la tua città. Dopo aver scelto il luogo, la mappa si aggiorna sulla zona scelta. Da qui, per vedere le immagini satellitari, dobbiamo cliccare in basso a sinistra sul riquadro indicato dalla freccia. Ed ecco la visione satellitare della zona da noi scelta. Da qui dobbiamo avvicinarci al suolo cliccando sul più, indicato dalla freccia, in basso a destra. Ovviamente queste immagini non sono in tempo reale, ma dell'ultima scansione fatta dai satelliti di Google, e si aggiornerà periodicamente. Dopo un po' non potremo più ingrandire, ma sarà già sufficiente per distinguere ad esempio le macchine. Per scendere in strada invece, puoi seguire un'altra guida dedicata che mostra come visitare qualsiasi posto nel mondo dal tuo dispositivo. La trovi cliccando il link in sovraimpressione o nella descrizione. Dicci com'è andata o se hai avuto dei problemi nei commenti. Se la guida ti è stata utile, iscriviti al canale, e seleziona la campanella, così saprai quando escono nuove guide. Visita lofaionline.it Ci sono decine di altre guide per le tue operazioni su internet. Per altre informazioni, contattaci nei commenti, sui social, o alle mail che trovi nella descrizione. Come fai? Lo fai online. Grazie. 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 Grazie.